Ben tornati, allora iniziamo subito con una notizia Matorino di Francesco in conferenza ha lanciato, si è espresso in conferenza stampa in marito alla sfida contro la... Max, allora partiamo velocemente, c'è tanto materiale perché siamo stati assenti per qualche settimana quindi abbiamo, io ho raccolto durante... Grazie Max, allora rimbalzo una voce di calciomercato Sì, 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 ma dico adesso è il momento di... È il lopente Ma che cosa? Che devi vedere? Gossip con lei, lei non c'ha mai... Ma solo uno dei primi problemi di questa crisi che durava ormai da un anno fosse la lontananza perché prima lui al sassuolo, anzi prima in Germania poi al sassuolo e poi il riavvicinamento di lui all'ex moglie Quindi attenzione, insomma, vediamo che cosa succederà No, lei è Melissa Satta Eh, lei è Melissa, questa ragazza... No, non è sempre Melissa, è sempre... Ah, è sempre Melissa Satta È sempre Melissa Satta Volevo presentare, mi sembra, ma come al paparizio Veloce, veloce, veloce Vabbè, prima dell'intervento, poi vi volevo presentare una modella, il volto noto di Sport Italia Ha risposto ad alcune domande su una Instagram Stories, insomma, in cui ha fatto la diretta E tra queste domande gli è arrivato appunto che cosa pensasse del fatto che Bonucci sia diventato capitano Ha detto nessun passato a Milano Questa è la signora Bonucci? No, questa è un volto di Sport Italia, Max Sì, vai, veloce però Napoli-Lazio 2-1 2-1, 2-1, che è il prefisso, prego Sì, anch'io, dai, più o meno, 1-0, 1-0, 2-1, 2-1 Deciditi Vabbè, ma l'idea originale non ce l'avete Che vuol dire? Ti ho parlato di 5-0 Romadolino, 7-0 Napolino Dai C'è il problema, c'è salto al cuore Allora Romadolino Ecco, così è 2 1-0 Eh Dai E Napoli-Lazio 1-1 Gole Eh Struppa del capitano Cinzia tantante, Cinzia veloce, vai Cinzia Napoli-Lazio 1-1 Eh Grande, Cinzia Eh, Roma-Torino 2-2 Oh, Cinzia ha detto che dopo questo tristico di partita Lazio aumenterà il vantaggio sulle rivali, eh 3 in più Sulle inseguitrici Prego, Massimo 2 rispetto a Più 3 rispetto a Massimo 2-0 2-0 2-0 A Roma? 2-0 Roma E Napoli-Lazio Se la Se il Napoli si calma Sì Allora solo 2-0 2-0 Franco Napodaglio Se si calma Per me 1-0 Roma, 1-1 Lazio Quindi pareggio, eh Ci credete in questo? 1-1 Lazio, 2-1 Roma, Franco Mi prendono appallonate 1-0 1-0 Noi parliamo venerdì Certo Franco, 1-0 la Roma? C'è arriva il Zaghi De giocare con il tuo postieri Che cotto Casano, prego Per me 4-1 Lazio Quindi 1-4 E 2-0 Roma Grazie, grazie Sta per volgere la Greta Petrelli Grazie a voi